Ancora un primato, ancora una volta nelle sale operatorie del centro di cardiochirurgia intitolato a Vincenzo Gallucci, cui si deve il primo trapianto di cuore in Italia. Il paziente è già tornato a casa e sta bene, è stato sottoposto all'intervento con tecnica mini-invasiva compiuto per la prima volta al mondo dall'equip diretta da Gino Gerosa, che in circa quattro ore con tecnica tradizionale gli interventi sarebbero stati tre e il tempo raddoppiato. Ha eseguito una plastica alla valvola mitrale, la chiusura dell'auricola sinistra e l'ablazione picardica a cuore battente e senza usare circolazione extracorporea. Il paziente, un uomo di 62 anni, era affetto da insufficienza mitralica severa e fibrillazione atriale. Questo intervento è quello che il dottor Sars era a chiamare le B-Tech Solutions, cioè con tecnologia e tecnica, utilizzando il meglio della tecnologia e adattando il meglio della tecnica riusciamo a ottenere questi risultati. Un lavoro di squadra, sottolineato Gerosa, studiato e preparato con cura certosina, grazie alle simulazioni eseguite su questo cuore in resina riprodotto dalla stampante 3D di cui è dotato il laboratorio di cardiochirurgia. A guidare gli occhi dell'equip durante l'intervento, l'ecografia transesofagea tridimensionale eseguita in tempo reale sul paziente grazie a una piccola sonda. Usiamo dei sistemi di ripetizione dell'imaging che consentono anche di ottimizzare le immagini e quindi cercare di migliorare nel modo ovviamente più ovvio che ci consente la tecnologia per arrivare alla miglior definizione dal punto di vista anatomico. Sono proprio dettagli anatomici che in questo caso sono indispensabili per poter definire al meglio quella che è la procedura. Un centro di eccellenza è la Mediochirurgia di Padova che in queste ore sta effettuando il nono trapianto di cuore dall'inizio del 2023 su un paziente in età pediatrica.